Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi, venerdì, il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 18, versetti 1 a 5, punto 10. La base di misura dei cristiani non è la grandezza o la potenza, ma l'umiltà. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discipoli si avvicinarono a Gesù dicendo Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costrue più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorella, la domanda dei discepoli, chi è più grande nel regno dei cieli? Gesù non risponde direttamente, ma compie innanzitutto un gesto simbolico che è già di per sé una risposta sconvolgente alle loro prospettive riviste. Allora, i nostri rapporti o i rapporti tra di noi impostano correttamente solo mediante la conversione e non un atteggiamento umile verso Dio. Quando ci scopriamo veri, poveri e piccoli davanti a Dio, allora capiamo che la domanda posta all'inizio ai discepoli non ha più senso. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Allora, cari fratelli e sorella, la nostra vita cristiana è una vita che richiede l'umiltà e la semplicità del cuore. Se vogliamo sperimentare la bellezza di essere cristiani, dobbiamo metterci a servizio dei piccoli, dei bisognosi, lavare i piedi. Diventare come un bambino è percepire che il Padre ci chiama sempre a crescere e diventare ciò che dobbiamo essere, dei piccoli, dei poveri, dei beati che aspettano tutto della grazia. Questa umiltà attiva è un cammino, è una sequela coraggiosa verso la croce come quella di Gesù. Allora, cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore quest'oggi apertura e semplicità del cuore e servire il Signore nei nostri fratelli più bisognosi. Buona giornata a tutti.